E' con me stamattina Nicola Chianese. Ciao Nicola! Grande Nicola, che è in preparazione della gara, in preparazione delle gare. E' in preparazione delle gare. Ti farò un servizio che non ti farò dimenticare. Pietro, io faccio il servizio. Pietro, stai qua. Allora, la preparazione di Nicola. Ma lui partecipa a gara di triathlon, non sembra? Sì, ma non lo metto. Lo metto? Perché? Non è che ti dà tolontando, vabbè, allora non metti i commenti. I commenti non li metti. Io non me la pubblicavo, Peppe. Giustamente ha detto una cosa, non lo metto su Facebook, vorrei metterlo su YouTube. Ma perché fai YouTube? Allora, perché per quanto riguarda YouTube? Si ricarica prima? No, è la stessa cosa, soltanto che io riesco a tenere sotto controllo praticamente. Ah, è la stessa cosa, ma non è la stessa cosa, ma non è la stessa cosa. Quattro, guarda, guarda. Quattro, guarda. Ci siamo a che abbiamo la migliore posizione oggi E' superissimo Troppo le ho scelte di manca no? E' un po' per il tempo lavoro e tante cose E' infatti Tante fatture Allora cosa guarda Guarino davanti a si, a strada, davanti a me vedo un po' di strada bella, libera, allora davanti a te vedi a te, prendiamo questo signore. Grazie per la visione!